Lavoro da vent'anni nel mondo del retail, che è ancora come vent'anni fra mi entusiasma, perché è un mondo che ti permette di lavorare con le persone, per le persone e per i clienti. Una delle mie caratteristiche è che provengo da un'esperienza lunga e importante sui punti vendita, quindi contatto diretto con il mercato e con i clienti e con il negozio. Questa esperienza è stata maestra, mi ha fatto da scuola per tutto il mio trascorso, perché secondo me è sempre importante, lavorando in aziende sempre più grandi, strutturate e con rete di negozi molto importanti, non perdere il contatto con il cliente, quindi con il mercato, cosa che spesso vedo molte aziende fanno ed è un rischio che porta poi a un risultato pessimo, che è quello di staccarsi dalla realtà fondamentalmente. L'aspetto fondamentale è che le aziende pensano al prodotto, hanno pensato al prodotto, hanno pensato al prezzo, ma la verità è che oggi è fondamentale ancora di più, forse rispetto al passato, il lato umano di un'azienda, e cioè quanto le persone che collaborano con questa azienda a tutti i livelli sono motivate verso l'obiettivo. Il personale oggi fa la differenza e io lo dico fortemente proprio nel momento in cui tutti parliamo invece di digitale, di CRM, di comunicazione, di fedelizzazione dei clienti, di carta fidenti, tutte cose che dobbiamo dare quasi per scontate, mentre non è scontato che il personale che è dietro a queste attività sia così motivato da portarle avanti in maniera veloce, ben fatta e soprattutto affinché il cliente le percepisca come veramente fatte col cuore.